Il quinto protocollo. Che cosa è il quinto protocollo? Un'estrapolazione di eventi a venire, elaborati con conoscenze aliene, sulla storia futura dell'umanità. Una cupa profezia a cui tutte le culture intelligenti prima o poi nella galassia, devono farci i conti. Un implacabile destino, già scritto da politici umani ladri e stupidi. Che cosa rappresenta davvero, il quinto protocollo? Che cosa rappresenta davvero, il quinto protocollo?